e comunque questo il fatto di rendere poroso con questi questi scivoli che stiamo creando di gocciopesti cosa stiamo a fare la storia ormai è diventato il fatto di avere un chicchetto più grosso e più semplice e da qua si arrivava nella parte più alta chiaramente arriviamo questa è la parte grazie a tutti Grazie.